Certo, chiaramente grazie per l'invito e per questa occasione. La battaglia sull'inceneritore, come dicevi, è una battaglia lunga a Padova, che ha una storia che affonda le radici, almeno alla nascita del primo inceneritore a Padova, che 10-12 anni fa aveva avuto una forte mobilitazione popolare contro l'ampliamento dell'inceneritore, con la loro terza linea e la promessa dello smantellamento delle prime due linee vetuste. Smantellamento mai avvenuto, che ancora oggi viene annunciato, però a fronte di cosa? Della costruzione della nuova quarta linea, una quarta linea che si annuncia più efficiente, meno inquinante e via dicendo. Però il problema è quello di cui parlava già Mattia poco fa, è un problema strutturale della gestione dei rifiuti, ed è quindi la battaglia contro l'inceneritore che stiamo conducendo, che tra l'altro ha visto nel suo piccolo comunque un elemento forte di convergenza, di costruzione di legami. Siamo riusciti anche, tra l'altro grazie al supporto di chi sta conducendo la battaglia contro l'inceneritore di Fusina, a costruire una convergenza di realtà politiche, sociali e comitati locali, che hanno presentato queste più di 20 osservazioni alla regione contro questa nuova linea, e anche appunto mettendo insieme competenze tecniche, specialistiche, che appunto spesso rimangono frammentate, e soprattutto una capacità comunque di porre la questione in maniera forte, e appunto in maniera coordinata e coerente fra tutte queste realtà. E' una battaglia che quindi però non pone solo una questione relativa a un problema, diciamo immediatamente visibile come quello dell'inquinamento, del peggioramento delle condizioni di salute, che pure è fondamentale e centrale soprattutto, come si diceva già prima, nell'intervento iniziale, nella pianura padana, in Veneto e nelle nostre città estremamente inquinate, in cui andare a introdurre un nuovo emettitore di inquinanti, che si vanno a sommare agli altri, anche se formalmente rispettano i requisiti minimi, i requisiti di emissioni massime. Quindi questa è una questione chiaramente centrale, importante, però non può porre fondamentalmente per essere in qualche modo risolutiva, e pensare di trasformare, bloccare questo progetto, ma anche porre un freno a tutte le altre questioni aperte dal punto di vista ambientale nel nostro territorio, non può porre solo questo aspetto, pone anche una questione del modello produttivo e di sviluppo che ha caratterizzato chiaramente non solo questo territorio, ma in particolare questo territorio che ha fatto dello sfruttamento del lavoro e dei territori stessi la sua chiave, insomma la sua capacità di produrre profitti e ricchezza nel corso dei decenni, come spiegano benissimo le tante avvertenze di cui parleremo anche stasera, quindi in particolare la questione dei PFAS e via dicendo. È una battaglia che quindi chiama in causa contemporaneamente il problema del profitto fatto appunto sulle spalle di chi produce, la ricchezza e di chi vede peggiorare le proprie condizioni di vita, e pone anche una questione su un controllo popolare delle istituzioni, che in questi decenni hanno ampiamente disatteso i loro formali compiti, lasciando che l'inquinamento aumentasse a dismisura, che appunto lo sfruttamento la facesse da padrone. Io credo che al di là appunto di quelle che sono le prese di posizioni formali, che non vengono dall'Unione Europea, ma vengono anche per esempio in quello che era il piano dei rifiuti di cinque anni fa, in cui erano previste un incremento della raccolta differenziata, comunque una diminuzione netta della produzione di rifiuti. Questo chiaramente esiste anche perché le questioni sono così palese, così violente, che non possono essere ignorate a livello istituzionale, ma queste non si possono tradurre di fatto in atti concreti, in materialità, perché questo metterebbe in discussione radicale appunto il modello di sviluppo, il modello produttivo. Quindi diciamo, la battaglia dell'inceneritore nella convergenza di tutte le altre battaglie deve porre una questione di fondo generale. Ecco. Ecco.